Salve a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video Logitech ha rinnovato la sua gamma di cuffie da gaming Ha presentato le G332, le G432, le G635 e le G935 Beh, iniziamo con calma e partiamo dalla fascia più bassa Ovvero G332 qui a sinistra che hanno un audio stereo E G432 qui a destra che invece hanno un dongle che permette di abilitare il 7.1 Questa è la recensione di queste due cuffie Come potete sentire già da questa clip, cigolano abbastanza Benvenuti sul mio canale, io sono Toto e parlo di tecnologia a 360 gradi Non mi piace soffermarmi su un singolo argomento Perché tendo ad annoiarmi molto in fretta Per cui mi piace variare e portarvi sempre prodotti di qualsiasi tipo Ma comunque sempre in ambito tecnologico Allora, partiamo da queste cuffie Partiamo dalle G330 Sono praticamente un'evoluzione delle G230 E hanno gli stessi driver delle G432 Che invece rappresentano la versione rinnovata delle stravendute G430 Perché dico stravendute? Perché sono un paio di cuffie che sono entrate nell'iconico di YouTube Italia In quanto erano quelle che indossava Favijay agli albori Quando iniziò la sua carriera in YouTube Gaming Con gli anni poi si sono abbassate talmente tanto di prezzo Che ultimamente si trovavano anche 35-40 euro A seconda delle promozioni di Amazon Confezione che è praticamente la stessa Cambia solo il colore In una è blu, nell'altra è un po' nera Ci guardano davvero tanto E all'interno della confezione troviamo Per quanto riguarda le G332 Le cuffie è un adattatore che permette di sdoppiare L'ingresso audio e microfono Quindi l'ingresso cuffia e microfono E quindi utilizzarle con i PC Ma si possono utilizzare volendo anche con le console In quanto c'è il jack apposito E anche con il cellulare oppure con i portatili Mentre per quanto riguarda le G432 La confezione è un attimo più ricca In quanto ci sono le cuffie di colore blu Poi c'è lo sdoppiatore, sempre il dongle Che permette di collegare le cuffie ad un PC Sdoppiando il jack del microfono e il jack delle cuffie E poi c'è questa qui Che è la schedina audio Molto simile a quella delle G433 Forse erano quelle in tessuto Che abilita i 7.1 Che consente di controllare le G432 tramite software La costruzione è esattamente identica Sono realizzate entrambe in plastica Si differenziano perché la versione stereo Ha i dettagli rossi Ha quindi questa pelle Finta pelle rossa Per quanto riguarda la parte laterale Le G432 invece sono blu Anche la parte interna sono rispettivamente rossa e blu Quindi se amate il rosso Ma volete le cuffie 7.1 Logitech vi obbliga a prendere quelle stereo E a parte questo Come sono fatte? Sono realizzate completamente in plastica L'archetto però è in alluminio e si può regolare La regolazione come potete vedere è molto ampia I padiglioni si possono ruotare di 90 gradi Una cosa che apprezzo tantissimo Inoltre sono anche basculanti Come potete vedere qui Quindi potete appoggiare al collo comodamente Senza che diano troppo fastidio Per quanto riguarda il comfort Sono di tipo overia I padiglioni in questo caso sono molto grandi L'unica cosa che non mi è tanto piaciuto è che si la pelle è morbida e l'imbottitura Che è quella spugna che trovate tendenzialmente nei pacchi per fare spessore Non è un memory foam morbido È abbastanza duretta e insomma non è granché come feeling Si poteva fare di meglio a mio parere Una cosa che mi ha dato abbastanza fastidio è che costano rispettivamente circa 60 euro Circa 80 euro rispettivamente per le versioni stereo e 7.1 Sono tutti questi cicoli che insomma non si addicono assolutamente a una cuffia su questa fascia di prezzo Per quanto riguarda la resistenza invece sono ottime come potete notare L'unica cosa appunto è che le plastiche sono un po' cheap Per quanto riguarda l'ergonomia e il comfort Diciamo che siamo in piena fascia media Non c'è nulla insomma che faccia gridare al miracolo Una novità rispetto alla precedente versione è il microfono dotato di funzione flip to mute Cosa significa? Che per attivarlo dovrete semplicemente abbassarlo Se volete disattivarlo quindi mutarlo dovete semplicemente alzarlo Una cosa, una feature che io personalmente adoro su tutte le cuffie da gaming Perché è la cosa più intuitiva che potete fare Anche se questo vi obbliga ad andare in giro Se volete usare queste cuffie mobilità il microfono non potete staccarlo È lì ed è sempre presente Insomma per un pro c'è un contro rispettivo Per esempio nella cuffia sinistra invece c'è anche una ghiera che permette di regolare il volume Le cuffie stereo funzionano come tutte le cuffie stereo Quindi non vengono riconosciute dal software In quanto il collegamento è solo tramite connettore jack Per quanto riguarda invece le cuffie G432 Si collegano tramite il dongle USB fornito in confezione Vengono riconosciute dal software software che si è rinnovato Non è più il software gaming di qualche mese fa ma Logitech G Hub Ha una UI completamente nera molto pulita e come la tradizione Logitech permette di controllare non solo queste cuffie Ma tutte le periferiche Logitech che decidete di collegare al vostro pc Quindi un eventuale mouse, un eventuale tastiera o anche la webcam E di regolare tutte le impostazioni Impostazioni che per queste cuffie non è che siano tantissime Potete decidere di attivare o disattivare l'audio 7.1 Potete decidere di scegliere quale equalizzazione apportare a queste cuffie Diciamo che l'effetto si sente più o meno Una cosa che mi è piaciuta è che però per l'audio 7.1 si può andare a regolare singolarmente ogni singolo canale Ed andare a decidere dove enfatizzare la direzionalità Quindi se voi preferite percepire in maniera maggiore l'audio frontale rispetto alla vostra posizione Potete farlo Se invece preferite quello che arriva da dietro rispetto a dove siete voi Allora potete decidere anche questa cosa qua Ma la cosa più bella è appunto poter andare a regolare il volume di ogni singolo canale Anche se poi non so quanto sia utile per l'utente medio Per quanto riguarda i driver sono dei driver Logitech che dice di nuova produzione da 50 mm Come suonano queste cuffie? Devo dire pienamente nella media È un audio che ci si può aspettare da un paio di cuffie da 40 e 50 euro Non sicuramente da un paio di cuffie di 80 euro Questo ve lo dico molto sinceramente Non è che suonano male Però rispetto per esempio alle HyperX Cloud Affa Rispetto alle Sennheiser GSP300 Rispetto alle Turtle Beach Elite Atlas Siamo nettamente sotto Insomma al prezzo di listino io non prenderei assolutamente queste Pur avendo il 7.1 Anche perché ci sono molte alternative Anche in casa Logitech Per esempio volete prendere un headset con 55 euro Potete prendere il G433 È vero all'epoca quando le ho recensite io non ne ho parlato benissimo Ma sempre per la questione prezzo Perché costavano 120 euro A 60 euro diventa un headset abbastanza interessante Stessa cosa dicasi per queste G432 A 80 euro diventa molto difficile consigliarle Pur essendo una novità Iniziano a diventare interessanti se il prezzo scende a 60 euro Anche perché sempre sulla fascia tra gli 80 e 90 euro Poi si vanno a collocare anche le G533 Appena uscite costavano 150 euro Poi a distanza di un anno e mezzo ormai con qualche promozione Adesso costano 90-95 euro A volte anche 85 euro a seconda del giorno Quindi insomma andare a spendere adesso per prendere queste Non ve lo consiglio Tra qualche mese magari 6-7 mesi Promozioni del Prime Day Promozioni Logitech particolari Allora magari potreste considerarle Quindi eventualmente ne discutiamo qui sotto nei commenti Una cosa invece molto buona decisamente è il microfono Microfono che cattura un audio decisamente pulito Sono rimasto sorpreso E che permette non solo di parlare Ma eventualmente di registrare anche qualche voice over in qualche gameplay Quindi sotto questo punto di vista Logitech ha fatto decisamente un buon lavoro Ovviamente la differenza principale tra le due è la presenza della A27.1 Per il resto suonano esattamente E i driver sono esattamente uguali Sia nelle G332 Sia nelle G432 Quindi se le usate entrambe in modalità stereo Non notate nessuna differenza Per quanto riguarda la riproduzione 7.1 di queste cuffie Anche lì è vero che ci sono le impostazioni Delle impostazioni molto carine Che potrebbero aumentare la fruibilità delle cuffie Tuttavia non è che sia un 7.1 diciamo indispensabile Enfatizza di molto i bassi Aumenta di poco la spazialità Se cercate dei bassi molto pompati nel 7.1 Allora prendetele Se invece cercate qualcosa di un po' meglio rifinito Di un po' più pulito Allora queste non sono le cuffie Che fanno per voi E direi che ho parlato praticamente di tutto Sentite Come scricchiolano Vediamo magari se Logitech mi risponde Se questo è un difetto del mio sample Dei miei sample Perché ho la G432 La G332 Oppure ho un difetto diffuso Mi confronterò anche con qualche altro collega In merito a questo aspetto I link li trovate come al solito Qui sotto in descrizione Se avete domande Lasciatemele nei commenti Lasciate un bel mi piace a questo video Se vi fosse piaciuto E iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Noi come al solito ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Allora ragazzi questo è il microfono Esattamente così come lo sentite Dalle G332 Come ho detto adesso sono collegate Alla scheda audio delle G432 Questo proprio perché Le G432 e le G332 Sono essenzialmente lo stesso headset L'unica cosa è che le G432 Includono la schedina audio Ora per diciamo onesta intellettuale Ho voluto provarle entrambe Con la stessa scheda audio Ovvero quella inclusa Nelle G432 Per testimoniarvi appunto Che l'arresa audio Ma anche quella del microfono Tra le G332 E le G432 E' esattamente uguale Quindi il consiglio qual è Se avete già una scheda audio Di buona qualità Optate per le G332 Se invece non avete nessuna scheda audio Optate per le G432 Vi avverto però Che sono delle cuffie delicate Quindi potrebbero rompersi Abbastanza facilmente Trattatele con cura Grazie a tutti Grazie a tutti